La Delfes ha riscaldato i motori, al pala del Mauri il rostre di Rodolfo Robustelli e Salvatore Formato ha disputato un test amichevole contro la compagine dell'Angri, team dell'agro nocerino, di coach Costa Iola che prenderà parte al prossimo torneo di Serie C Gold e che schierava in campo l'ex scandone basket club Irpinia Andrea Iannicelli e l'ex monopoli Lala Pivò Lubo Markovic. Prima dell'incontro è servato un minuto di silenzio in memoria di Fabrizio Calò, il ragazzino 14enne deceduto per un malore improvviso pochi giorni fa, Calò ha fatto parte della Delfes. Sul fronte incontro con 5 tempi, 4 da 10 minuti e 1 da 8, i biancoverdi hanno impiegato gli ospiti nell'ultimo periodo. Sono emerse dallo Scrimmage buone indicazioni per i cocirpini, il roster a tratti ha accusato i carichi di lavoro, il team è in fase di precampionato infatti dallo scorso 23 agosto e la condizione arriverà con il tempo, ma si sono viste delle ottime trame di gioco. Buone nuove anche per quanto riguarda il capitolo giovani, con Marco Venga sugli scudi, che si è messo in luce in diverse occasioni. La società infine vorrebbe risputare un altro test amichevole prima dell'incontro di domenica prossima a Rieti in Supercoppa, ma ci sono difficoltà nel reperire un'avversaria.